Mare Dolcemente sussurri qua giù e fai più triste il cuore. Vediamo un po'. E chi non canta con me? Stasera mi butto, stasera mi butto, mi butto con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto. E siamo ora in compagnia dell'ospite d'onore di questa serata all'insegna della musica. E' qui con noi Valerio Liboni, ben trovato! Che bella che è questa ragazza, ha avuto la pazienza di aspettarmi fino adesso. Assolutamente. Ciao, ciao. Grazie. Valerio, tu hai fatto parte di un gruppo musicale molto famoso, i Nuovi Angeli. e questa sera sei qui per cantarci tutte le tue canzoni, hai fatto molti successi. Sì, sia con i Nuovi Angeli che da solo, sia con la strana società. Anzi, questa sera avrei dovuto esserci anche uno dei componenti, Andrei Andrei, che purtroppo ha preso il Covid e quindi è rimasto a Tanzaro, dove stava trascorrendo alcune giornate di vacanze. Avrebbero dovuto raggiungermi. Magari succederà al prossimo futuro. Sì, nella mia carriera ho venduto quasi 17 milioni di iscritti. Aspita, complimenti! Beh, il mio lavoro, io so fare solo questo, scrivere canzoni, cantare, viaggiare. Infatti volevo chiederti, come nasce la tua passione per la musica? Beh, mio padre lavorava in una compagnia di uno spettacolo, diventerà poi famoso perché diventerà la spalla di Erminio Macario. Io in questi piccoli teatri di provincia o a Torino, anche a Roma, vedevo questo grande strumento che era la batteria, per cui cercavo di suonarla e da lì è nata la mia passione. Poi ho cominciato a fare professionista e nel 72 ho fatto Popcorn e a Popcorn ho sognato una svolta clamorosa nella mia carriera. Che storia meravigliosa! Ci sono tra tutte le canzoni che hai fatto, anzi una in particolare, ce n'è una in particolare che ti sta a cuore? Sì, l'ho fatto anche stasera, si chiama Se questo non è amore, è una canzone scritta molti anni fa per Mia Martini, avrei potuto andare al Festival di Sanremo, non si è riuscita, l'hanno interpretata molti altri artisti italiani, io l'ho messo in questo ultimo album, che si chiama appunto Questa è la mia vita, è una versione unplugged, molto intimista, Se questo non è amore. Di nuovo complimenti! La mia casa è la sua proposta! La mia casa è lìììììììììììììì! Eⁿ doppia il Everybody Sueños Questo non è cambiato, che si sta a pocciare, un altro nido ormai Pronti? Furia cavallo del West che beve solo caffè per mantenere il suo pelo più nero che c'è viva la furia del West cintura di karate per sbominare la banda ora in compagnia di un ospite veramente speciale vero? Come ti chiami tu? Matilde la più piccolina di questa sera o quanti anni hai Matilde? 3 3 anni brava, bravissima e tu sei la nipote del titolare di questo fantastico locale Pavan ma sei pronta per ballare tu? sei pronta con questo bellissimo vestitino e allora noi non vediamo l'ora di vederti sulla pista da ballo poi facciamo una pirouette insieme ci fai un saluto e allora io e Matilde vi salutiamo facciamo ciao con la manina ciao per sbominare la banda più forte che c'è ah ah bronzatissima sotto i raggi del sole com'è bello sentirti respirare con me ah ah bronzatissima sotto i raggi del sole com'è bello sognare abbracciato con te saltellare, saltellare hey, hey saltellare, saltellare hey, hey, hey il ballo di gruppo più facile del mondo ma facile anche da dimenticare dopo questi due anni si dimenticano anche questi cinque passi ti amo, ti amo ciao ciao ti amo, ti amo, ti amo Si, si, destra Si s-a rădat, vom merge Onde-un, de cere Hai ce sper ei, am iat iubia Si, 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 dar dar iti iubia Ti s-a rădat, iubiu-te-bea Onde-un, de cere Desigur stiu, am iat iubia Sa ne distram amandoi, cat se poate Ia, ti-ai iubiu Ui, ma, jate Ti-amu, ti-amu Dar, iate iubia Ili bădic I love you, I love you Ili bădic Ili bădic Ili bădic Ili bădic Ili bădic Bene, bene, allora Sono ora con il titolare del ristorante pizzeria da Pavan, Luciano Pavan, benvenuto qui con noi Si, sono io, sono io, Luciano Pavan Ci puă raccontare un po', la storia del suo locale, quando è nato? È nato 37 anni fa, e sempre abbiamo operato noi, io e la mia famiglia, stiamo sempre qua noi Ed è diventato un punto di riferimento, non solo per i fanesi, ma anche per numerosi turisti che ogni anno vengono a trovarvi È vero, è vero abbiamo amici da tutte le parti d'Europa, che arrivano a trovarci, anni dopo anni Bellissimo. E i piatti che vanno per la maggiore, quali sono? Sono dei piatti di pesce che noi gestiamo per la maggiore. Ho capito. È un ristorante, pizzeria, ma anche dancing, perché qua spesso sono ospiti grandi orchestre, vero? Sì, abbiamo le migliori orchestre della zona, selezionate dopo tanti anni, dopo tanti anni, i migliori sono qui a cantare. E allora io ringrazio il titolare Luciano Pavan per essere stato con noi. Grazie, buona serata e non vediamo l'ora di ascoltare queste meravigliose orchestre. Va bene, grazie, grazie molto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Erika, da dove vieni? Da Slovacchia. Wow, bellissima la Slovacchia. E sei qua in vacanza? Sei qua perché... Amico grande, Fano. Ah, sei venuto a trovare un amico qua a Fano. Ma dimmi un po', ti piace la cucina italiana? Molto mi piace, molto. È fantastico. Ti piace la città di Fano, molto, molto mi piace. Il porto, il mare, il centro storico. Centro storico, sì. Io, Erika, ti auguro una buona serata e anche di trascorrere delle belle vacanze qua a Fano. Grazie per essere stata con noi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.